Allora, facciamo chiarezza. Nel Decreto Legge 44, quello del 1 aprile, l'articolo 10 definisce le modalità dei concorsi pubblici in generale, quindi anche quelli per la scuola. In cosa consiste e cosa norma questo articolo? Fa sì che tutti i concorsi possano espletarsi in sicurezza e in velocità, viste le necessità plurime che abbiamo, intanto di assumere più personale possibile nella scuola e anche in altre pubbliche amministrazioni e di farlo in sicurezza. Affinché questo possa realizzarsi, si stanno immaginando procedure di velocizzazione, ma per accedere ai concorsi bisogna essere ovviamente in possesso del titolo, del prerequisito per accedere a quello stesso concorso, solo dopo e dopo l'esplendamento delle prove si prenderanno in considerazione anche titoli di servizio, nonché esperienza professionale. Il concorso ordinario è stato già bandito e così come nell'articolo 10,1, lettera C, noi possiamo leggere che una fase di valutazione dei titoli, legalmente chiaramente riconosciuti, serve ai fini dell'ammissione dei titoli. Poi invece, oltre ai titoli culturali, ai titoli culturali si possono aggiungere i titoli, ripeto, di servizio e di esperienza professionale solo ai fini del punteggio finale. Grazie a tutti.